Marco Rondini, come commenta la condanna che ha avuto chi ha investito e ucciso il bambino nel Ravennate? È uno scandalo, ancora una volta è l'ennesimo episodio in cui una persona che investe e uccide un bambino viene condannato dopo aver patteggiato a soli due anni e nove mesi a pagare un'ammenda di 400 euro. Questa persona non sconterà neanche un giorno di carcere. La persona che era responsabile di questo omicidio è scappato dopo aver ucciso il bambino, è investito e ucciso il bambino ed oggi e domani potrà tranquillamente tornare libero per le nostre strade. Proprio per questo la Lega Nord che cosa chiede in Parlamento? La Lega Nord ha avanzato in Parlamento un progetto di legge con il quale noi chiediamo l'introduzione dell'omicidio stradale e come piena accessoria l'ergastolo della patente. Siamo riusciti nel corso dell'esame in commissione alla delega al Governo per la riforma del codice della strada a far inserire questi principi. Ora ci aspettiamo che il Governo dia seguito alle parole e alle promesse fatte anche dallo stesso Renzi in sede di insediamento del suo Governo.